Sono complessivamente 35 i punti inseriti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Licata, convocato dal Presidente Carmelinda Callea per il prossimo martedì 8 settembre alle ore 17. Tra questi, di maggiore interesse, spiccano la deliberazione della Corte dei Conti per quanto riguarda l'adozione di misure correttive, l'approvazione della proposta del conto costitutivo 2014, relazione tecnica e relazione sul rendiconto della gestione 2014, parziale rettifica delibera del Consiglio Comunale numero 135 del 6 novembre 2014, avente ad oggetto approvazione piano di intervento Aro Comune di Licata, atto di indirizzo relativa a problematica punto nascite, adesione all'iniziativa proposta dalla soprintendenza del mare relativa alla realizzazione del Parco dei Banchi dello Stetto di Sicilia, l'adesione del Comune al Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo, l'approvazione del regolamento per la disciplina della concessione dei beni confiscati alla mafia ai sensi del Decreto Legislativo 159 2011 del patrimonio indisponibile del Comune di Licata, la presa d'atto del debito fuori bilancio di 2.101,13 euro relativa al rimborso delle spese legali all'architetto Maurizio Falzone, giusta sentenza numero 2314 emessa dal giudice di pace di Licata. Rinvio affiancamento della contabilità economico-patrimoniale del bilancio consolidato, direttiva commissariale numero 32 2015 approvazione schema regolamento per il riconoscimento di agevolazioni sui tributi locali in favore delle vittime delle attività estortive e dell'usura, modifica e regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, delibera di Consiglio Comunale numero 128 2014, presa atto rivisitazione piano finanziario otari utenze non domestiche, articolo 1,683 approvazione piano finanziario e tariffi etari anno 2015 ed ancora determinazione del numero delle rate e scadenze e poi una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio per oltre 300.000 euro.